ok ciao ragazzi oggi facciamo uno speed test casalingo show me mi 8 light versus o vs come preferite redmi note 7 è un io dico casalingo anche se redmi da adesso da questo telefono è diventata casa a parte quindi azienda a parte un po come è honor per huawei e lo dico sempre questa cosa che importante ho già caricato il mio backup quindi è bello che pronto all'uso a questo punto passiamo al alla comparazione mi 8 light mi 8 light a 4 giga di ram 4000 mAh di batteria 1 8 corda da 2 gigahertz fotocamera da odio micro più 12 megapixel più 5 registra video in 4k schermo in orizzontale da 6 e 26 esce con android 8.1 non chiamatemi show me redmi note 7 abbiamo sempre un 8 core da 2 giga hertz con memoria espandibile 64 giga di memoria con memoria espandibile esce con android 9 e lo schermo in orizzontale è leggermente più grosso è da 6 e 3 fotocamera la forza di questo telefono è la fotocamera da 48 megapixel si virtuali ma eccezionali non registra video in 4k ma in full hd adesso che ve li ho presentati chiudiamo tutte le applicazioni aperte e passiamo allo speed test a premessa entrambi hanno tutte le applicazioni perché è il mio telefono devo ancora ripristinarlo hanno tutte le stesse applicazioni poi faremo anche una test della fotocamera con un prossimo video quindi vediamo un attimino quale dei due è più veloce anche se le caratteristiche sono le stesse identiche telefono instagram instagram twitter twitter applicazione amazon messaggi messaggi whatsapp whatsapp untork play store telegram telegram browser internet web iscrivete visto questo diciamo che mi 8 light allora premesso che ripeto hanno le stesse identiche caratteristiche come potete vedere uno a parte la miui che questo no anche la mia no si questo era 2.2 questa 2.1 comunque hanno le stesse identiche caratteristiche ram otta core rota 2 da 2.2.2 quindi risulta leggermente più prestante mi 8 light perché non lo so purtroppo così detto questo sicuramente a livello fotocamera e a livello luminosità è meglio redmi 7 no comunque va beh detto questo ragazzi come al solito comunque parliamo sempre di centesimi di secondo niente di trascendentale ci vediamo col prossimo video nei prossimi giorni per mettere a confronto le due fotocamere